A voi tutti il più cordiale saluto, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Dolomiti Turismo che quest'oggi incontra un nome storico dell'ospitalità bellunese, in particolare di Cortina d'Ampezzo ovvero l'hotel-ristorante da Beppe Sello. Il nostro credito ospite è Carlo Orlandi. Ciao Carlo e benvenuto nei nostri studi. Il vostro locale, ho definito storico, nacque nel 1958 se mi sono documentato correttamente. E' nato nel 1958 da un'idea di Beppe Sello, Giuseppe Menardi Sello, che era il fratello di mio nonno, quindi mio prozio che all'inizio lo costruì come casa padronale, come sua casa. Poi nell'arco dei lavori decisi ma perché non fare un ristorante sotto, un albergo sopra e quindi da lì nacque Beppe Sello che aprì praticamente nel 1958. Certo, e poi dopo Beppe Sello? E poi da lì è andato avanti, quando Beppe Sello nel 75 morì, lasciò in eredità il Beppe Sello a mia mamma e a mio zio che lo gestirono per un po' di anni, poi la mia famiglia, mio papà, mia mamma, mia sorella ed io nell'86 acquisimo la parte di mio zio e da lì siamo andati avanti. Poi nel 2005, quando mia madre, ormai arrivata all'età di 73 anni, si era anche un po' diciamo stufata di questo lavoro, ci prese me e mia sorella e chiese a chi voleva andare avanti con l'attività e io ho aiutato da mia moglie, prendendo in mano l'attività, mia sorella decise di prendere un'altra strada e quindi da allora stiamo andando avanti noi. Certo, e quindi un'attività familiare con la collaborazione di Michela, di Brunovica. Ho mia moglie che mi dà una mano, mia figlia che adesso sta ingranando anche lei, sta studiando però ci dà una mano, adesso sta facendo il corso di sommelier, insomma stiamo proseguendo la tradizione. Certo, la tradizione, ecco, proprio il vostro ristorante è, se non vado errato, l'unico della provincia di Belluno dell'Unione Ristoranti del Buon Ricordo. Esattamente, l'Unione Ristoranti del Buon Ricordo è un'associazione che è nata nel 1964 da sei ristoratori, diciamo, italiani, adesso non mi viene in mente esattamente il nome e praticamente la peculiarità era quella che se tu andavi in questi ristoranti del Buon Ricordo mangiavi il piatto che ti veniva presentato, in omaggio veniva dato questo piatto decorato a mano. Tutti i piatti, ci tengo a dirlo perché magari uno pensa che ormai nel 2020 è tutto automatizzato, tutti i piatti del Buon Ricordo vengono eseguiti uno per uno a mano, vengono dipinti a mano a vetri amare sulla costiera marfitana, io sono andato a vedere la fabbrica, è molto interessante, tutti i piatti devono essere ordinati con quasi un anno d'anticipo, pagati anticipatamente e dopo loro te li spediscono e la particolarità appunto è che sono tutti dipinti a mano e sul retro c'è sempre la data della produzione. Ah però, una serie limitata, noi in sovrimpressione dovremmo vedere delle immagini appunto di tale piatti e anche di un recente appuntamento, proprio per celebrare i 60 anni mi sembra di questa unione. Proprio per celebrare i 60 anni del Ristorante del Buon Ricordo è stata organizzata a vetri amare la cena, questa cena, questo gran galà dove c'erano mille ospiti, c'erano i 100 chef diciamo di tutti i ristoranti del Buon Ricordo che sono andati giù, tra i quali c'erano anche i miei collaboratori, c'era mia figlia, mia moglie e altre cameriere, per organizzare appunto questa festa dei 60 anni del Buon Ricordo. Noi nel Buon Ricordo siamo entrati 30 anni dopo, quindi il Buon Ricordo è nato nel 64, noi siamo entrati nel 94 e il nostro piatto era il carai di cervo con la pera e la marmellata di mirtilli, dopodiché l'abbiamo ottenuto per 16 anni, praticamente siamo entrati, abbiamo cambiato il piatto e abbiamo fatto il piatto della sfogliatina, che è la sfogliatina praticamente questo voluvan un po' più grande di pasta sfoglia con gli spinaci passati al burro e i porcini. E rimane quindi sempre quello? Rimane quello, allora diciamo che la particolarità di questo piatto è che per cambiarlo ci vuole un po' di tempo, nel senso che intanto bisogna trovare un artista che ti prepari il bozzetto per il piatto, poi deve essere presentato al Buon Ricordo, il Buon Ricordo deve accettare il bozzetto, se non va bene il bozzetto e poi devi preparare il piatto, la ricetta, devono provare la ricetta, cioè è un meter complesso, è un po' complesso, quindi adesso noi lo teniamo per un po' di anni, poi adesso lo vedremo insomma quando cambiarlo, al momento adesso c'è la sfogliatina che va bene. Beh, è significativo che sia complesso nel senso che non è un semplice souvenir, un omaggio commerciale, no? Che magari c'è... Anche perché, ripeto, i piatti essendo fatti tutti a mano non puoi fare un toto di colori, quindi quando tu mandi il bozzetto devono esserci, non so, al massimo 5 o 6 colori, perché proprio per il fatto che vengono fatti a mano è proprio un gran lavoro. Ma ci sono ospiti che vengono apposta perché sanno questo e magari... Ci sono ospiti che vengono apposta e ci sono ospiti non solo dall'Italia ma anche dal mondo che vengono apposta per mangiare il piatto del Buon Ricordo. In Italia siamo circa un centinaio del Buon Ricordo, all'estero ce ne sono circa un 14, quindi in totale siamo 115, ognuno con la propria specialità, ognuno col proprio piatto. Poi ci sono i collezionisti, i collezionisti che proprio come facevamo noi da bambini con la collezione dei cacciatori, loro lo fanno con i piatti. E quindi una sorta di turismo itinerante, no? Esatto, un commercio itinerante che dove il collezionista non è riuscito ad andare è commercia con l'altro, dice, ti do il beppe sello, se mi dai la meglia, insomma tutto questo giro. Noi l'abbiamo fatto una volta alla cena dei... è stato molto 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 interessante. Ci sono magari anche i collezionisti che magari vengono più di una volta... Certo, proprio perché i collezionisti, siccome dietro il piatto c'è l'anno della stampa e quindi loro hanno il beppe sello del 99 e vogliono quello del 2000, poi vogliono quello del 2001, quello del 2002 e quindi sono molto ricercato. Assumo uno valore, credo, anche nel corso del tempo. Ti racconto sto aneddoto, è successo che un mio cliente è andato su un mercatino a Padova, un mercatino delusato, mi ha fatto la fotografia e mi ha detto, guarda che ho trovato il piatto del ricordo del cervo del 2000. Ho detto, guarda, prendimelo subito, me l'ha portato per dire. Quindi magari qualcuno che l'aveva preso poi l'aveva messo nel mercatino. Ecco, ci dicevi, Carlo, di cercare 100 ristoranti associati, è un elite? Cioè, per entrare, c'erano determinati requisiti? Allora, il requisito principale è che i muri della struttura devono essere di proprietà. Ok. Se sei in affitto così, il buon ricordo non ti permette di entrare e per di più devi entrare tramite un altro ristorante del buon ricordo. Io adesso all'epoca non mi ricordo mia madre tramite chi era entrato. Comunque è, diciamo, un altro ristorante che dà, diciamo, una sorta di garanzia perché tu entri. Quindi tu entri e comunque la base deve essere comunque che il ristorante e i muri devono essere tuoi. Ecco perché il buon ricordo, perché ci si ricorda chiaramente, è legato, perché le gestioni possono chiaramente cambiare aggiormente. Certo, perché oggi come oggi, da un momento all'altro, sai meglio di me che cambiano le gestioni, cambiano, chiudono, appono e quindi… Sì, sì. E in Veneto, Carlo, per curiosità, abbiamo detto che in provincia di Belluno soltanto in Veneto ce ne sono altri? Allora, in provincia di Belluno siamo solo noi, in Veneto siamo in 14. In 14. Eh, immaginiamoci che ci siano ospiti itineranti, voglio dire. Eh, certo, tutta gente che magari… ma non solo del Veneto, perché c'è gente che viene da Milano, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta… Ah, ecco. Dal Giappone, ci sono tre ristoranti in Giappone, ad esempio del Buon Ricordo, e quindi è una cosa, insomma, ben strutturata, ecco. Ecco, vi siete trovati a Bietri sul mare, è stata un'occasione, penso, anche di confronto per voi, perché una volta all'anno, insomma, incontrarsi all'insegna della tradizione. Esatto, è stata un'occasione di confronto e un'occasione anche di collaborazione, perché tu devi capire che per far da mangiare per mille persone devi essere strutturato in una certa maniera, quindi ti faccio un esempio, il Beppe Sello ha mandato giù i nostri quattro cuochi con due cameriere e poi tutti gli altri li ha mandati giù, quindi c'erano cento chef, diciamo, che preparavano tutto, con cucine da campo, quindi preparate tutto in perfetto ordine e sai, poi devi tenere un livello alto, cioè non è una festa campestre, quindi sai, da da mangiare a sette, ottocento, mille persone, quante erano, è strutturalmente molto, molto, molto impegnativo e quindi c'è stato, vabbè, l'antipasto, c'era un baccalà a mantecato, è stato fatto un menù abbastanza itinerante, nel senso che è stato fatto un baccalà a mantecato con la polenta calda, con la polenta e con lo strumento di pane, come prima sono state fatte le trofie col pesto alla genovese, come secondo è stato fatto un taglio di ricciola agli agrumi e poi come dolce la delizia al limone, che è tipico della campagna, quindi diciamo è stato preso dal nord al sud, un po' tutto, logicamente il menù non poteva essere strutturato con tantissime portate, perché sennò, è impossibile, sarebbe stato impossibile. Senti Carlo, voi, quindi, buon ricordo, ovvero tradizione, tradizione anche nelle pietanze, oppure innovate? Allora, io ti parlo come Beppe Sello, logicamente, noi adesso è un paio d'anni che, grazie anche allo chef che ho adesso, che si chiama Giacomo, lui è un ragazzo giovane, ha 28 anni e le piace cambiare molto, quindi cosa lasciamo? Noi lasciamo i 4-5 piatti storici, però dopodiché il resto vengono cambiati tutti, sia l'estate che l'inverno, quindi tu a Beppe Sello troverai sempre la sfogliatina, sempre lo chateaubriand, sempre il tartare, sempre i benefatti che è un raviolo che facciamo in casa, ripino di cracciotte maggiorane, di pomodoro basilico, tutto il resto cambia, nel senso che tu non troverai mai il risotto all'inverno uguale a quello dell'estate e quindi noi cerchiamo di cambiare e di usare comunque i prodotti della zona e tutti, però è una cucina molto varia diciamo. Guardandosi intorno anche in prospettiva olimpica, cortina d'ampezzo, acquisizioni, grandi gruppi stranieri, la tradizione dell'ospitalità. Speriamo che tutto quello che hanno promesso si faccia, nel senso che sai, le infrastrutture stanno iniziando a fare, c'è stata la storia della pista da Bobo, come tu ben sai, chi è la contrario, chi è la pro, insomma quelle sono dinamiche in cui io non voglio entrare, perché io faccio turismo non faccio politica, però ti dico si sta muovendo bene la situazione, situazione strade come ben tu sai, quelle sono, stanno cercando di ovviare il meglio possibile, però di richieste ce ne sono tante, il problema è che a cortina posti letto ce ne sono sempre di meno, perché adesso stanno facendo degli alberghi, però se tu calcoli che arrivano su migliaia di persone, cortina è un paesino di 5.500 abitanti, noi albergatori, comunque abbiamo cercato di dare il massimo possibile all'organizzazione per i posti letto, però bisogna lavorare ancora tanto, bisogna lavorare. Alcuni alberghi di ristrutturazione quindi chiusi, credo Carlo, perdonami io dei ricordi dell'infanzia, di quando si andava sempre nel solito albergo, c'è ancora il turista che piace ritrovarsi uno o due volte all'anno anche per il dialogo, per il rapporto umano con l'albergatore. Diciamo che noi curiamo tanto questo, cioè a me piace curare il rapporto umano, a me piace che la gente quando viene al bel pesello sia più io amico tuo, non tu il cliente e io diciamo quello che ti servo, quello che comunque ti preparo le cose. A me piace sempre dire, non mi piace dire i miei dipendenti, mi piace dire i miei collaboratori, mi piace che loro abbiano rispetto delle persone e quindi che li trattino molto bene. L'accoglienza è la cosa principale secondo me in ogni attività, non solo nel settore alberghiero, dappertutto, l'accoglienza, la gentilezza, anche perché mi diceva mia nonna che fare un sorriso non costa niente e quindi con il sorriso, sai, tante volte riesci anche a magari a sopperire a qualche sbaglio che fai, sai, metti la mano sulla spalla e ci impariamo i misclusi e tutto. Si comprende maggiormente, si percepisce l'animo. Noi ti dico, noi lavoriamo bene perché noi adesso, noi, il ristorante e il bar viene chiuso stagionalmente, però l'albergo non è sempre aperto, quindi noi diamo un servizio 365 giorni all'anno. E questo è importante perché non c'è solo il turista, c'è anche i passaggi, i lavoratori. Io ti dico, stamattina sono venuto giù, ma in albergo c'erano 30 persone che dormivano, quindi ti dico, lavoriamo molto bene anche col turismo, arriva gente da tutte le parti, ieri ero in albergo, ho fatto il check-in a 5 thailandesi che hanno dormito una notte, uno dice, ma cosa viene il thailandese? Gira, viene qua, poi va nella valle di Halle, poi va di qua, gira. Turismo itinerante, loro sono abituati a questo tipo di, e quindi il servizio, l'ospitalità è la prima cosa, la prima cosa alla fonte del commercio diciamo. Carlo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ci ha fatto molto piacere sapere la vostra attività e appunto l'Unione Ristoranti del Buon Ricordo di cui fate parte. Quindi grazie a Carlo Orlandi. Grazie mille, grazie a voi, volevo solo l'ultima cosa, ringraziare tutti i miei collaboratori che hanno permesso appunto che questa manifestazione andasse bene, ringrazio tutti i rappresentanti del Buon Ricordo e in particolar modo anche mia moglie e mia figlia che mi sono sempre vicino. Grazie Carlo, buon lavoro a te e a tutta la famiglia, e a voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci alla settimana prossima. Grazie mille, grazie a tutti.